Caffè Carraro è un'azienda proiettata verso il futuro per questo vengono fatti continui investimenti per migliorare la tecnologia in produzione mantenendola all'avanguardia ma sempre nel pieno rispetto della tradizione del caffè Caffè Carraro è oggi una torrefazione di riferimento a livello nazionale e internazionale un brand che ha 90 anni di storia e che la mia famiglia negli ultimi 30 ha traghettato nel ventunesimo secolo acquistiamo 25 qualità diverse di caffè crudo da 20 paesi coltivatori l'acquisto del caffè crudo avviene solo dopo che è stata verificata la qualità di ogni singolo lotto nel paese d'origine lo stoccaggio del caffè crudo e la successiva fase di tostatura avvengono separatamente origine per origine in modo tale da garantire con tempi e temperature diverse la massima espressione qualitativa per ogni caffè. Grazie alla flessibilità degli impianti produttivi possiamo creare e personalizzare miscele in grado di soddisfare i diversi gusti dei consumatori. La nostra gamma copre tipologie di prodotti che vanno dal più tradizionale caffè per moca alla più moderna capsula. I nostri prodotti sono conformi alle tradizioni alimentari delle diverse religioni come attenziano le certificazioni che vengono rinnovate ogni anno. Carraro crede nel valore della formazione e offre a tutti diversi pacchetti per acquisire le conoscenze necessarie a lavorare nel settore del caffè. Grazie a tutti.